Un nuovo apparecchio digitale, multifunzione e dotato di movimenti motorizzati. Si tratta di un investimento di 190.000 euro che l'azienda sanitaria ha effettuato con i fondi PNRR destinato al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Questo è un macchinario completamente digitale, automatizzato, che permette di eseguire l'esame al paziente senza muoverlo. Quindi è l'apparecchio che si muove per fare le proiezioni necessarie. Poi è dosato di protocolli di esame basati sul tratto anatomico che permette di ridurre l'esposizione, quindi di ridurre la dose al paziente e all'operatore. Ogni anno al pronto soccorso dell'ospedale valvarnese vengono eseguiti circa 25.000 esami RX, 7.200 TAC e 3.500 ecografie per un totale di 35.700 prestazioni. Gli esami per cui viene impiegato fondamentalmente sono gli esami alle estremità nei traumi, tipo caviglie, piedi, articolazione dell'arto superiore, spalla, per fare i toraci in caso di infezione polmonare, covid o esami di altro tipo, per esempio nelle dirette nell'addome, per la ricerca di occlusioni oppure anche segni di perforazione. Proseguono infine i lavori di ampliamento del pronto soccorso della gruccia. Siamo nei tempi, sta procedendo il cantiere come si deve e pensiamo che sia consegnato nei tempi validi in modo da avere il nuovo pronto soccorso per i cittadini in tempi adeguati. La cosa importante da non sottovalutare perché non è scontata è che durante i lavori comunque il pronto soccorso continua a lavorare e i servizi continuano ad essere forniti come sempre.